Presentato il progetto Waterfront sulla riqualificazione della zona Sassonia, tra i punti più critici, residenti, operatori turistici e commercianti lamentano la prevista riduzione dei parcheggi già limitati con precedenti provvedimenti. La situazione, almeno avendo visto le nuove notizie del Waterfront, sappiamo che verranno ridotti dei parcheggi, quindi questo un po' ci preoccupa perché già non c'è abbondanza, quindi perderne altri rappresenterebbe un problema, non solo già da adesso, quindi immagino anche per la prossima stagione estiva. Poi soprattutto per i residenti? Sia per i residenti sicuramente, anche per i turisti perché già a volte trovano difficoltà a trovare posti durante l'estate, quindi se si eruderanno ancora sarà, penso, un problema. Secondo lei quali sono le soluzioni? Se l'unica trovare delle alternative, adesso sinceramente non saprei dare un consiglio. Però c'è assolutamente necessità di intervenire? Se si tolgono lì bisogna recuperarli da qualche parte, insomma. Molti residenti come noi non hanno parcheggio, non hanno garage, non hanno posto auto. Qui la situazione è già molto difficile, parcheggi non ce ne sono. Quando torniamo a casa siamo costretti a girare e rigirare per trovare un parcheggio che spesso sotto casa e vicino a casa non si trova. Sono già stati tolti tanti parcheggi con la ciclabile di Via Danteleghieri e quant'altro. Con il nuovo progetto verranno tolti altri, loro parlano di 15 parcheggi, ma in realtà noi li abbiamo contati, sono 27, sono molti di più. Ci verranno tolti tutti questi parcheggi sotto casa, per cui per noi diventa veramente invivibile. La soluzione che dicono del parcheggio, del nuovo parcheggio agli orti, non può essere una soluzione adatta ai residenti. Sono a favore di una riqualificazione della Sassonia, però il progetto deve essere fatto con criterio. Bisogna pensare non soltanto all'estetica, ma anche alla vivibilità, all'esigenza dei cittadini, di chi ci abita. Secondo lei, quanto sono importanti i parcheggi al mare? Sono importantissimi, uno che viene giù al mare, che vuole prendere una boccata d'aria buona, vuole fare un giro, come faccio io adesso, faccio una passeggiata. Vengo con la macchina, dove la metto? O di pazzo si vuole, la città è vecchia, però la concezione, le comunicazioni, i giri, è diverso. Non è che abbiamo più i carretti come una volta. Chiediamo al comune un aiuto per i parcheggi, perché comunque prima di toglierli sarebbe meglio trovare una soluzione alternativa. Anche perché i residenti hanno bisogno di parcheggiare le macchine qui nei dintorni e noi comunque dell'attività dobbiamo lavorare. Chiediamo al comune se ci può sostenere in questo caso. Penso che questa cosa sia positiva, però ovviamente il parcheggi è un problema grande per Fano. E quindi penso che in questo progetto debba essere considerato anche il fatto di trovare una soluzione compensando, trovando nuove soluzioni per i parcheggi. Certamente perché questo può creare tanti problemi alle attività, alle persone che risiedono qua. Che cosa ne pensa di questo nuovo progetto che toglierà tutti questi parcheggi in Sassonia? Loro credono di fare le cose per il bene, sicuramente ci sarà anche un progetto per migliorare la cittadinanza. Però quello che ai residenti interessa è il parcheggio, perché se no, primo, non possono posteggiare vicino casa. Secondo, non si può trovare nessun parcheggio per dire vado a fare una passeggiata al mare. Il motivo che lo stiano facendo questo non lo sappiamo. Vediamo, lasciamo il tempo al tempo.